Visto quanto affetto, quanto ti vogliono bene i bimbi? Sì, sì, tutto bene con i bambini. Scusa perché non parla bene ancora l'italiano, ma i festivi, i Noel, tutti, i bambini, sì, molto piacere. E come si va? Meglio, ancora 15 giorni, può essere ancora meglio, ma è bene. Resterai qui a Pescara? Sì, sì, restare qui a Pescara, mi sento bene e restare a Pescara. Che cosa ti senti di dire ai tifosi? No, non male che i tifosi, non male perché la squadra non gioca bene, quindi è normale, ma spero che in januari, spero meglio per Pescara calcio. Si può salvare il Pescara secondo te? Sì, sì. Se la fa? Sì, fa. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Stefano, questi bimbi sono uno spettacolo? Eh sì, eh sì. Anche molto aggressivi. Però dai, ne è balsa la pena. Come no, è un piacere. Eh sì, poi io ce n'ho uno piccolo, quindi sono abituato. Grazie.